Ha perso la vita un lavoratore dell'azienda Asia alle ore 4 e 35 nel deposito dell'azienda comunale in via Galileo Ferraris. L'uomo sarebbe stato investito da un mezzo guidato da un collega, inutile la corsa all'ospedale del mare. L'area in questo momento sarebbe stata ampiamente illuminata, dettaglio che rende ancora più assurdo l'incidente e non si comprende come il collega abbia potuto investire il 66enne. Asia fa sapere che quella zona è coperta dalle telecamere di videosorveglianza e che tutte le immagini saranno messe a disposizione degli inquirenti. È stata diramata una nota dalla stessa azienda. L'uomo è stato subito sul corso sul posto dei colleghi. È stata chiamata l'ambulanza che lo ha portato all'ospedale del mare dove è stato operato ma è deceduto. Il piazzale di Asia è ben illuminato ma c'è stato l'incidente dell'addetto che guidava il camion. Il sistema di videosorveglianza lo ha ripreso e le immagini saranno quindi messe a disposizione dell'autorità. Sulla vicenda è intervenuto anche l'amministratore Ruggiero il quale si è mostrato addolorato per quanto accaduto e per la tragedia che ha investito quindi l'intera azienda.